bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di monosport 7 siamo qui perché è stata presentata dipende quando vedete il video perché insomma posso dire oggi posso dire domani posso dire è stata presentata domani minchia che senso logico che ho delle frasi ma bella a tutti ragazzi e ricominciamo con la formula 1 ragazzi non vi preoccupate se non ho portato contenuti di formula 1 per un mese ma sto preparando tante nuove rubriche sulla formula 1 la formula 1 story delle top 10 quindi insomma ragazzi non vi preoccupate perché giustamente voi dite uscita la top 5 del 2020 il poggiorno del 2020 poi non ho fatto uscire praticamente quasi più nulla e ragazzi sicuramente farò uscire più spesso video sul mondo della formula 1 non vi preoccupate perché ho in mente che in futuro si parlerà più di formula 1 che di calcio sul mio canale allora 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 e se rappresentate la nuova ferrari sulla livrea non mi fermo tanto perché insomma dico solo che quel verde dà speranza ma il fatto che sia lo sponsor mission win of che da quando abbiamo quello sponsor abbiamo vinto una gara con raikonel peraltro da quando abbiamo praticamente quello sponsor ragazzi abbiamo vinto solo con raikonel con mission win of perché quando ci sono state le vittorie di leclerc e vettel nel 2019 se non mi sbaglio non abbiamo non c'era lo sponsor mission win of la vabbè il fatto che il verde è speranza se vuoi quello sponsor un po mi fa dubitare però per il resto comunque devi vedere la macchina per come dentro non per come fuori anche perché fare un disastro come ha fatto la williams che sembra un dentifricio o l'ass che sembra la bandiera russa va a suo peggio quindi insomma ragazzi più che altro commenteremo sulle mie aspettative per il 2021 per questa ferrari ragazzi perché secondo me faremo leggermente meno dell'anno scorso almeno riusciremo a giocarcela alla pari con alfa tauri mclaren renault vabbè alfa tauri insomma è sotto di noi però mclaren renault e racing point erano l'obiettivo la renault è ovviamente raggiungibile anche per la qualità dei piloti ragazzi perché la renault la alpin la alpin di alonso e dio con per quanto riguarda invece la mclaren la vedo più dura perché hanno una coppia piloti devastante ricciardo norris e anche quest'anno c'era anche nel 2020 non ha avuto science norris quindi veramente una delle coppie formidabili bene anche la intanto arriva la notifica di demiral infortunato minchia 20 giorni lesion mamma mia ragazzi che sfiga l'undici mi porta sfiga va bene tanto demiralle alla fine meglio che sia demiralle non delicto chiellini allora ragazzi tornando alla formula 1 allora le mie aspettative per il 2021 credo che faremo molto meglio rispetto allo scorso anno avremo sicuramente come un passo avanti ragazzi è inutile che vi sto qui a commentare sapete come la pensa nel senso del perché la ferrari nel 2020 ha fatto cagare nel 2010 novembre roglievamo sul motore il 2020 scontavamo la pena poi non so come funziona perché ragazzi è molto più facile essere competente di calcio che di formula 1 vi spiego il calcio uno può dire che si gioca con difesa 4 l'altro potrei che si gioca con la difesa 3 ma alla fine hanno vinto squadre con difesa 3 squadre con difesa 4 quindi alla fine puoi dire qualsiasi cosa nel calcio che poi non sei per forza incompetente se io invece dico in formula 1 uno mi fa il sorpasso così che sarebbe un sorpasso all'interno uno mi dice no quello all'esterno è facile dire che è incompetente ragazzi voglio dire alla fine c'è la libertà di espressione non è come dire vettele più forti di kiviat puoi essere smentito certo la storia dice che più forte vettele però insomma quelli sono pareri allora ragazzi la sf 21 dice binotto andiamo a sentire cosa dice quella capra perché ragazzi per me lo vediamo ma è facile cioè ragazzi abbiamo fatto più cagare in curva e più cagare in aerodinamica se non imbrogliavamo elkan penso avrebbe cacciato via binotto non l'ha cacciato perché sa che qualcosa sotto c'era ragazzi oppure ha provato lui stesso il progetto non lo so però ragazzi la sf 20 è stata veramente una cagata incredibile no la sf 1000 scusate una cagata incredibile peggio delle sf 90 cioè ragazzi binotto viene dal 2018 nel 2019 ha peggiorato nel 2020 ha peggiorato ancora 2021 veramente se non si migliora vedremo vedremo quindi diamo queste chance a binotto perché secondo me non è il caso di giudicarlo se è vero che imbrogliavamo allora la sf 21 è una vettura dice binotto la capra che nasce da quella dell'anno scorso e già non ci siamo e già non ci siamo però purtroppo per regolamento per motivi anche regolamentari è in parte congelata però è una vettura che abbiamo creato cercato di migliorare in tutte le aree forse possibile ovunque fosse possibile il che comunque ci sta quindi vediamo se l'avete migliorato così tanto poi magari gli altri hanno migliorato ancora di più e siamo nella merda però insomma vediamo se abbiamo migliorato perché nel 2020 rispetto all'2019 tutte le scuderie hanno aumentato di 2 3 4 decimi le prestazioni personali la ferrari le ha peggiorate di un secondo quindi potete capire quanto la ferrari 2020 sia stato antiproduttivo lo dice il team principal della ferrari binotto nel giorno della presentazione della rossa che scendrà in pista in bahrain il 28 marzo l'aerodinamica è rivista certo la power unit è completamente nuova e anche perché se mettevi quella usurata poi ti dava problemi è una vettura che cambia anche nella sua livrea come vedete il posteriore della vettura richiama la maranto vabbè non me ne frega niente la livrea questa è una stagione di grandi sfide concordo partiamo visibilmente dalla nostra storia ma ci proiettiamo verso il futuro sempre con contraddistinto dal nostro rosso ferrari tra l'altro la juve quest'anno rischia di non vincere nulla gettiamo le basi per il futuro hanno preso 3000 giovani la ferrari anche piena di giovani gettiamo le basi per il futuro e vabbè ma quando vedrò la juve vincere la champions alla ferrari vincere un cazzo di mondiale perché ragazzi da quando io tifo da quando io tifo cioè da quando ho otto nove anni la ferrari non ha mai vinto il mondiale e la juventus non ha mai vinto una champions ragazzi la juventus l'ultima c'è l'ha vinta nel 96 quindi pure che nascevo 4 5 anni prima avevate la stessa cosa però ragazzi sono nato nel 2003 quando sono nato ho visto la ferrari vincere i mondiali ma l'epoca ancora non tifavo iniziato a tifare più o meno nel 2010 certo che tra gelatino e ambulanze oggi di tutto passa qui concordo anche sul fatto che binotto ha detto saremo amici saranno amici charl e carl oddio charl e carl è vero sono lo stesso modo charl e carlos saranno amici e non rivali perché rivali lo diventeranno quando la macchina sarà al top ora la ferrari bisogna rinascere e non c'è tempo per essere rivali anche in casa come magari facevano mettere le clerk qui si rinasce si rinasce insieme e si punta al terzo post quest'anno si salva la stagione si punta al terzo posto e fare sette podi insomma l'anno scorso abbiamo fatti due quest'anno ne possiamo fare sette ma non non fare sette podi ragazzi alla fine se bottas emilton e verstappen chiudono tutte le gare non fai neanche un podio tu perché il podio lo fai quando si ritira uno tra bottas emilton e verstappen o quando uno di questi tre ha problemi non lo dico io lo dicono le statistiche e se pensate il contrario siete falsi non dico le statistiche il podio è sempre stato bottas emilton verstappen nel 2020 ragazzi perché la mercedes ci può pure mettere latifi che vanno sempre a podio se non hanno problemi mercedes fissa sempre a podio l'altro il miglior di tutti gli altri verstappen l'altro che lo può battere perez ma dubito opinione mia perez inferiore 3000 volte a verstappen con tutto il rispetto è magari mi smentisce ma perez perez qui verstappen qui ragazzi cioè l'abc molto bene molto bene le sensazioni sono positive così come ogni anno e ogni anno finiscono per fare una cagata oppure per farmi perdere il mondiale perché arriva bene poi ci fa tutto tranne che cagate vediamo ora binotto come si comporterà ragazzi al suo terzo anno in ferrari sarebbe il suo primo anno dove la macchina verrà progredita in dove otterrà prestazioni migliori rispetto all'anno precedente perché nel 2019 ha fatto peggio dell'anno prima 2020 ha fatto peggio ancora 2021 se va a fare peggio ancora vuol dire che sei ultimo in classifica ragazzi non c'è altra soluzione è stata per forza di cose migliorata la macchina e lo spero in curva facciamo sempre cagare più o meno avremo un'auto sui tempi del 2019 il che ti farebbe concordare con con alpin con aston martin che poi l'ho chiamata racing point e reno e hanno cambiato nome però con l'alpin con aston martin e con la mclaren penso che possiamo battagliarcelo ragazzi quindi le sensazioni sono positiva secondo me ci battaglieremo il terzo posto facendo qualche podio quelli quando verstappen e emilton si ritireranno l'obiettivo è farne cinque di podi perché più o meno in un anno verstappen tre quattro ritiri te li fa perché la red bull li fa sempre botta samilton tra tutti e due faranno due ritiri e bottas qualche problema ogni tanto ce l'ha quindi insomma ci saranno tipo una decina di occasioni per andare a podio e di quella decina di occasioni magari anche dodici almeno cinque le vogliono della ferrari ragazzi non me ne frega niente comunque nel 2000 abbiamo fatto tre podi e anche più rispetto alle altre scuderie perché la mclaren ha fatto due podi che è arrivata terza in in classifica costrutture la mclaren ne ha fatti due l'alpin ne ha fatti tre vabbè l'alpin ma chiamo alpin la renone ha fatti tre la racing point ne ha fatti quattro e l'alfa taurie ne ha fatto uno vabbè però insomma ragazzi questo è quanto detto questo ragazzi con questa mia prediction anche se farò con tanti altri video aspettatevi tanti video sulla formula 1 da adesso in avanti non vi preoccupate forse sempre forza ferrari essere ferrari sperando che quest'anno binotto non abbia messo sono una cagata la nascita tua sono a vederti se il video ti è piaciuto dimmi da lasciare mi piace ragazzi a contare non dislike come te siete d'accordo vi siete d'accordo con me se non è ancora fatto iscrivetevi al canale in descrizione il link per seguirmi su instagram da monosport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi